Ci sarà anche Italia in comune tra le 13 liste che, alle prossime regionali, sosterranno Michele Emiliano nella sua corsa per la riconferma alla guida della Regione Puglia. A confermarlo la presenza di un delegato del partito alla conferenza che, martedì 14, si è tenuta a Bari. In discrezioni, al momento non confermate, indicano anche possibili candidati bitontini nella lista del sindaco. Domenico Nacci e Maria Grazia Gesualdo. Non posso confermare perché stiamo aspettando la legge elettorale sulla parità di genere. Senza sapere questo non possiamo sapere quale lista Italia in comune presenterà le prossime regionali. Quindi, per rispetto di tutti, è bene aspettare la decisione del Consiglio regionale, che mi auguro sia verso la parità di genere. Altrimenti faremo una brutta figura tutti quanti, come Puglia in generale, il che avverrà la settimana prossima. I nomi che hai fatto sono nomi a me, ovviamente, molto cari, molto vicini, anche come esperienze amministrative. Domenico sta con me, con noi, insomma. Dal 2012, Maria Grazia, per la sua giovanità, dall'inizio della sua seconda amministrazione, era presente nella lista, chiamiamola così, del sindaco, tra la gente, e adesso è presente in Italia in comune, ci ha creduto dall'inizio. Io ci tengo molto a questo gruppo e ci tengo molto al gruppo regionale Italia in comune. Ecco perché, voglio dire, non è neanche pensabile ipotizzare una mia candidatura per queste regionali, perché il mio compito è quello di dare una mano alla squadra, dopo che la squadra ha dato una mano a me, alle europee. Quindi alle regionali abbiamo il dovere di fare un grande risultato anche lì e questa volta solo io a dare una mano agli altri, perché in squadra si fa così. A volte si corre per vincere la gara, altre volte si corre per far vincere gli altri.